Ti avevo promesso qualcosa in più del lato professionale mio e di Biomasse Evolution e allora ho pensato che cosa della mia vita personale poteva interessarti. Magari non ti interessa quello che adesso ti sto dicendo, però ti introduco un po' a quella che è la mia vita personale con la tipologia di libri che leggo. Una delle ultime due letture che ho fatto e che ho finito è questa qua. La parola magica di Paolo Borzacchiello. Ti assicuro che io non prendo un centesimo da Paolo e non prendo neanche i soldi della casa editrice, però quello che posso dirti è che è un libro veramente bello da leggere e te lo consiglio. Te lo consiglio tanto perché parla in maniera specifica di come le nostre azioni sono poi condizionate dai pensieri, eccetera, eccetera, eccetera. Sono rimasto incuriosito dalla lettura di questo libro che oltretutto mi è stata presentata da una mia amica ed è un libro bello. Te lo consiglio, è un libro, come ti dicevo prima, veloce da leggere e anche perché non è scritto solamente in prima persona dove chi legge è un po' passivo. All'interno c'è una storia, c'è un romanzo anche un po' spirituale perché si parla di arcangeli, si parla di... insomma non so qua spiegarti che cosa, però è molto molto bello. Quello che mi sono portato a casa io è, dopo averlo letto, di quanto sia importante una corretta comunicazione non solo con se stessi ma anche con le altre persone. Ci sono diversi concetti all'interno del libro che potrei startene qui a parlare, però non lo faccio per questione di tempo, altrimenti male il rischio di annoiarti, però leggilo. Se sei una persona intenzionata a fare qualche passaggio anche a livello personale che piace leggere libri di questo tipo, i cosiddetti libri di autoaiuto, questo è un libro molto bello. Poi oltretutto mi sono iscritto anche al canale Facebook di Paolo ed è un canale anche quello molto bello perché gli spunti quotidiani che tutto il gruppo in Facebook dà sono spunti veramente belli. Bene, io con questo video ho finito, quindi la parola magica vai, prendilo dove vuoi, Amazon o libreria, però è un libro che te lo consiglio. Noi ci vediamo al prossimo video e iscriviti al canale, mettici un like e fammi sapere se lo hai già comprato, quali sono i tuoi commenti in merito, se la lettura di questo libro ti ha aiutato e come. Ciao!